All'11 giugno scorso le 250 BCC italiane organizzate nei due gruppi bancari cooperativi Crea e Cassa Centrale Banca e in Alto Adige attorno alla federazione Raffaensen avevano complessivamente trasmesso al fondo di garanzia delle PMI 98.028 richieste di garanzia a valere sulle misure del cosiddetto decreto liquidità. Si tratta di oltre il 15,9% del totale delle pratiche inviate al fondo secondo dati forniti dal medio credito centrale. L'importo complessivo dei finanziamenti del credito cooperativo e assistiti dalle garanzie statali ha superato i 3 miliardi e 488 milioni di euro, l'11,13% del totale. Delle complessive 98.028 richieste 90.949 hanno riguardato pratiche relative ai prestiti previsti dalla lettera M dell'articolo 13 del decreto liquidità fino a 30.000 euro dopo la conversione in legge del DL liquidità per un importo complessivo superiore a 1 miliardo e 843 milioni di euro. Il credito cooperativo rappresenta su questa misura il 16,37% del totale delle pratiche trasmesse e il 16,39% del totale degli importi finanziati. Sono dati che confermano l'eccezionale sforzo compiuto dalle banche di comunità mutualistiche per rendere disponibili a famiglie, imprese e professionisti le misure previste dal governo e dal Parlamento per mitigare l'impatto dell'emergenza sull'economia reale. Sforzo ancora più significativo se si considera che la quota delle BCC nel mercato complessivo degli impieghi a clientela è del 7,5%. Per quanto riguarda invece le moratorie, secondo dati disponibili ad oggi, sono oltre 280.000 le pratiche deliberate dalle banche di credito cooperative, casse rurari e casse RIFSEIN e già operative, per un importo complessivo che supera i 32,5 miliardi di euro.